Lo squalo, Taxi Driver, Bruce Brothers, Il Cacciatore, Apocalypse Now, Blade Runner, ma quanti ne potrei snocciolare di questi film meravigliosi americani che mi hanno fatto sognare e mi hanno fatto venire voglia di far sognare le persone. Probabilmente a me la necessità, la passione, l'interesse nel fare cinema, ma nel raccontare storie mi è nata proprio in quei pomeriggi dentro qualche sala parrocchiale a vedere questa meravigliosa cinematografia che ci faceva immergere in una bolla, facendoci dimenticare tutto e tutti e facendoci entrare in qualche storia meravigliosa, paurosa, emozionante, commovente, divertente. Quindi per me l'America è tante cose, ma è soprattutto la voglia di raccontare storie e di emozionare. Quindi in qualche modo gliene sono debitore.